Vini nuovo cielo, vini nuova terra, Vini Gerusalemme, come sposa, a torna per il suo sposa. Vieni, vieni, Lorenzo, vieni, vieni, pensa a noi, Tu per noi, Messia teso, a noi, nostro Signore. Vieni, ti mostrerò, La sposa dell'agnello. Vieni, ti mostrerò, Gerusalemme, Città e gloria di Dio. Vieni, te, no Redentore, Vieni, vieni, pensa a noi, Tu per noi, Messia teso, Tu con noi, nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi e con il tuo Spirito. Tutti si sentono benvenuti in questa chiesa che è la casa di tutti i milanesi, di tutti i credenti della Diocesi, un particolare benvenuto. Voglio dare a coloro che sono nati nel 1951 questa classe gloriosa di cui mi onoro di far parte. In realtà non abbiamo nessun merito per essere nati nel 1951. Però, insomma, cerchiamo di sentire che la convocazione a partecipare alla Messa in questa festa di Avvento, in questo cammino verso il Natale, ci dice, cari del 1951, siete giovani, avete ancora tanto bene da fare, avete ancora tante speranze da seminare. Ecco, quindi siate tutti benvenuti. Grazie di aver accolto l'invito. Prepariamoci a celebrare bene questa Eucaristia, chiedendo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Tu, Figlio di Dio, che sei stato annunciato dalla legge e dai profeti, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, atteso dai giusti, che sei passato fra noi, beneficando e salvando. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu, Signore e Salvatore, che sei il volto della misericordia del Padre. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ammine. Preghiamo. O Dio, che nella venuta del Tuo Figlio Unigenito hai risollevato l'uomo caduto in potere della morte, a noi che ne proclamiamo con gioia l'incarnazione gloriosa, dona di entrare in comunione di vita con il Redentore, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ammine. 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 O mio popolo, o mia nazione, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza, le mie braccia governeranno i popoli, in me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite e vedete le opere del Signore. Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Benedicimi Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci giovi a salvezza. Seconda lettura di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al Suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della Sua conoscenza. Noi siamo infatti, dinanzi a Dio, il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. La legge e i profeti hanno profetato fino a Giovanni, è lui quell'Elia che deve venire. Voi scrutate le scritture, sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Alleluia, 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 Alleluia. E così compie il giusto giudizio di Dio, il nostro Dio viene a salvarci. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tradizio, Alleluia, Alleluia. Benedicimi, Padre. Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, che tu possa annunciare degnamente il suo vangelo, nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi. Infatti, non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. La parola del Signore. Glodea te, oh Cristo. Glodea te, oh Cristo. Siamo nati nel 51, dicono che fossero ancora anni di stenti e di faticosa ricostruzione, ma molti di noi non se ne sono accorti da bambini, tutto il mondo sembra incantato e tutto sembra normale e facile se c'è la presenza del papà e della mamma che ci rassicurano. Poi siamo diventati grandi in quegli anni che hanno chiamato il miracolo economico. Non so se tutti ci sentiamo come miracolati da quegli anni, però c'era una specie di indiscutibile fiducia nel futuro, nelle nostre case, in quegli anni in cui sovrabbondava il lavoro, la fatica, ma anche il progresso, la possibilità di disporre di maggiori risorse. E dunque che cosa abbiamo imparato noi del 51 dagli anni della nostra adolescenza? Forse alcuni ne hanno ricavato motivo di scetticismo, lavori fino a stremarti, accumuli fino ad esaltarti, e poi in un momento tutto finisce in fumo, forse alcuni sono diventati scettici, ma noi, i credenti, siamo illuminati dalla parola del profeta che dice, i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito, ma la salvezza del Signore durerà per sempre e la sua giustizia non verrà distrutta. Abbiamo compiuto 18 anni nel 1969, abbiamo finito le scuole superiori, in quegli anni che sono stati anni di confusione, di inquietudine, in cui sembrava che l'imperativo dominante fosse di vivere al contrario. Uno, invece di essere fiero d'aver conseguito la maturità, doveva vergognarsi. Uno, invece di essere contento di costruire, doveva impegnarsi a distruggere. Invece di mantenere l'ordine e la pulizia, era liberatorio sporcare e mettere disordine. Si aveva l'impressione di vivere di ebbrezza e di rabbia, di utopie affascinanti e di violenze spietate. Che cosa abbiamo imparato dagli anni della nostra giovinezza? Quelli che si sono gettati nella mischia, come presi dal demone della rifondazione del mondo, forse ne hanno ricavato il risentimento per sentirsi come ingannati, per sentirsi come traditi dagli esiti di quegli anni. E gli altri, quelli che sono stati alla finestra a guardare, forse hanno conservato il loro atteggiamento di disprezzo e di derisione, con l'aria di chi si compiace della rivincita della banalità. Ma noi, noi i credenti, abbiamo imparato a fidarci più del profeta che del cultore di utopie e del promotore di rivoluzioni. E il profeta che dice «Alzate al cielo i vostri occhi, in me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio». Nel 1975, più o meno, abbiamo finito l'università, alcuni si sono sposati, noi siamo diventati preti nel 1975, più o meno, e abbiamo dato allora alla nostra storia una forma più assestata, una specie di sistemazione. Ma si ricordano quegli anni come gli anni di piombo, gli anni cupi della paura. Abbiamo attraversato tempi malati e abitati da una specie di odore di morte, dal male di vivere. Che cosa abbiamo imparato dagli anni della nostra maturità? Alcuni, forse, hanno imparato a non credere più a niente, a tenersi fuori dai fastidi, a dedicarsi agli affari e ai capricci, a praticare l'arte di essere inaffidabili, quindi a promettere e poi a ritrattare. Insomma, alcuni hanno imparato a sopravvivere in una società fluida. Ma noi, i credenti, abbiamo imparato a convertirci a una nuova discrezione, a una presenza che non presume il protagonismo, ma la pazienza, a una missione che non è conquista, ma attrattiva. Abbiamo imparato a rendere grazie a Dio, il quale, come dice San Paolo, sempre ci fa partecipi del suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti, dinnanzi a Dio, il profumo di Cristo per tutti. E così, almeno io mi immagino, ciascuno ha come scritto pagine di gloria, senza avvedersene e senza vantarsene. Abbiamo pianto i nostri martiri, abbiamo contato le nostre sconfitte, abbiamo sofferto lo strazio di abbandoni e l'umiliazione di sentirci insignificanti, ma noi, i credenti, siamo rimasti là come un profumo, siamo rimasti là come una candela che si consuma per far luce. Siamo rimasti là come i servi che vegliano in attesa del loro Signore, prigionieri della speranza. Abbiamo compiuto 60 anni nel 2011, gli anni di quest'ultima crisi, gli anni in cui ci siamo reso conto che non potevamo dare alle giovani generazioni quello che noi abbiamo avuto. Aver lavorato tanto e non riuscire a promettere lavoro, aver costruito case troppo grandi e non vedere nascere bambini che le possano abitare. disporre di mezzi per consentire ai giovani di studiare quello che vogliono e di farsi artefici del loro futuro e non capire d'onde venga quella specie di malavoglia scoraggiata, quella specie di preferenza per il divano invece che per il cammino, per il parcheggio invece che per la strada. cosa abbiamo imparato da questi ultimi anni che vengono indicati come gli anni di una crisi? Forse alcuni hanno imparato a godersi il presente più che a pensare al futuro. Hanno concluso che è più furbo chi pensa a se stesso e si approfitta della vita piuttosto che quello che pensa agli altri e si affatica per essere tenace nella fedeltà, generoso nella solidarietà. Forse alcuni si sono persuasi che è più conveniente sfruttare finché si può la società, l'altro, la terra e che non c'è una ragione per rispettare gli altri, la terra e il vivere sociale. Ma noi, i credenti, abbiamo imparato la via della speranza invincibile. La via della speranza invincibile non è la previsione confortata dalle statistiche, non è l'aspettativa che domani per un qualche colpo di bacchetta magica domani sarà meglio di oggi. Non è questa speranza invincibile l'aspettativa che qualche ritrovato della tecnica risolverà tutti i nostri problemi. No, la speranza invincibile è l'affidamento alla promessa di Dio, è l'ascolto delle scritture che danno testimonianza di Gesù e ci dispongono a vivere nell'attesa della sua venuta. La speranza invincibile è quella che ci dispone a celebrare il Natale che stiamo preparando non come un'occasione per una festa di consumi, ma come un invito a un raccoglimento più intenso, a un dialogo con il Signore più semplice e più disponibile, a un approfondire il mistero della nostra età, del nostro tempo, della nostra salute e della nostra malattia, del nostro essere pieni di vigore e del nostro talvolta sentirci stanchi ad approfondire insomma il mistero della vita come un mistero di grazia. Ecco che cosa abbiamo imparato noi, i credenti del 51, attraversando le stagioni della nostra vita. Abbiamo imparato a sperare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, Signore Gesù. Per la Chiesa sappia portare a tutti, e specialmente ai giovani, la gioia dell'Evangelo. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per chi ha la responsabilità di governo, con la giustizia e nella solidarietà sappia distribuire le risorse economiche che sono un bene per tutti. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per la nostra testimonianza di battezzati, lo scandalo che suscitiamo non sia mai a motivo delle nostre fedeltà, ma a ragione della nostra fedele sequela dietro a Cristo Gesù. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per noi, raccolti in questa Eucaristia, il nostro impegno di avvento sia fondato sulla irrevocabilità del dono e della promessa di Dio. Ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Accoglio, Dio di misericordia, la preghiera del Tuo popolo. A noi, gioiosi per la venuta del Tuo Figlio unigenito, nell'umiltà della carne, dona il premio della vita eterna al suo ritorno come Signore glorioso, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ammine. Secondo l'ammanimento del Signore, prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un gesto di pace. Grazie. 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 del mondo che verrà. Amén. Guarda con bontà, o Dio, le offerte che deponiamo sul tuo altare e la tua potenza consacri quanto la nostra povertà riesce a donarti. Per Cristo nostro Signore. Amén. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a Te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. A Cristo Signore la Chiesa va incontro nel suo faticoso cammino, sorretta e aglietata dalla speranza, fino a che nell'ultimo giorno, compiuto il mistero del Regno, entrerà con Lui nel convito nuziale. In questa attesa gioiosa, uniti ai cori degli angeli, eleviamo insieme l'inno di lode. Santo, 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 Santo e Signore, Dio del universo, i geni e la terra sono pieni della Gloria. Santo, 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 Santa, c'era il fondo e il grande murdered, dell'Ope del Signore. O Santa nell'alto dei cieli Veramente santo sei tuo padre e fonte di ogni santità Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito Perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore Egli, offrendosi liberamente alla sua passione Prese il pane e rese grazie Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie Lo diede ai suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti Questo è il calice del mio sangue Per la nuova ed eterna alleanza Versato per voi e per tutti In remissione dei peccati Fate questo in memoria di me Mistero della fede Annuliamo la tua morte, Signore Proclamiamo la tua risurrezione Nella presa della tua verura Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio Ti offriamo, Padre, il pane della vita E il calice della salvezza E ti rendiamo grazie Per averci ammessi alla tua presenza A compiere il servizio sacerdotale Ti preghiamo umilmente Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra Rendila perfetta nell'amore In unione per il nostro Papa Francesco Il nostro Vescovo Mario E tutto l'ordine sacerdotale Ricordati dei nostri fratelli Che si sono addormentati Nella speranza della risurrezione E di tutti i defunti Che si affidano alla tua clemenza Ammettili a godere la luce del tuo volto Di noi tutti abbi misericordia Donaci di aver parte alla vita eterna Insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio Con San Giuseppe suo Sposo Con gli Apostoli Con Sant'Androgio e tutti i Santi Che in ogni tempo ti furono graditi E in Gesù Cristo tuo Figlio Canteremo la tua gloria Per Cristo, con Cristo e in Cristo A te, mio Padre onnipotente Nell'unità dello Spirito Santo Ogni onore e gloria Per tutti i secoli dei secoli Ammettili a te, mio Padre onore e gloria Grazie a te, mio Padre onore e gloria Obedienti alla parola del Salvatore Formati al suo divino insegnamento Osiamo dire Padre, mio Padre onore e gloria Siamo a San Gioia In tuo nome Venga il tuo regno Siamo a tra tua volontà Come in cielo e così in terra Liberaci, signore, da tutti i mali E rimette a noi i nostri temi E rimette a noi i nostri temi Come noi che rimettiamo ai nostri temi E non ci intorno le mie ragioni Liberaci, signore, da tutti i mali Concedi la pace ai nostri giorni E con l'aiuto della tua misericordia Vivremo sempre liberi dal peccato Sicuri da ogni turbamento Nell'attesa che si compia la beata speranza E venga il nostro Salvatore Signore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo Che hai detto ai tuoi Apostoli Vi lascio la pace Vi do la mia pace Non guardare ai nostri peccati Ma guarda alla fede della tua Chiesa E dona le unità e pace Secondo la tua volontà Tu che vivi e regni Nei secoli dei secoli Amo La pace e la comunione Del Signore nostro Gesù Cristo Siano sempre con voi E con il tuo Spirito Amo Beati gli invitati alla cena del Signore Ecco l'agnello di Dio Che toglie i peccati del mondo O Signore non sono degno Di partecipare alla tua mensa Ma di soltanto una parola E io sarò salvato Amo Grazie. 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 Preghiamo. Amén. Amén. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno accolto l'invito a essere qui, a sentirci uniti nella fede, nella preghiera. Sentiamo vicini a noi anche i nostri coscritti che già sono morti, quelli che sono malati. Desidero per tutti invocare la benedizione del Signore. Prima ho salutato quelli che sono riuscito a salutare, adesso non posso fermarmi ancora a salutare tutti. Quindi vorrei affidarvi l'incarico, quando vengo nelle vostre parrocchie, nelle vostre comunità, di farvi avanti per salutarci, per dire noi siamo quelli del 51, quelli che hanno imparato a sperare. Ecco, questo vorrei che fossimo capaci con l'esperienza della nostra vita, con le responsabilità che pesano su di noi, di essere gente che semina speranza, perché noi siamo quelli che hanno imparato a sperare. Perciò invoco per tutti voi, per tutti i vostri cari, la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kirie Eleison, Kirie Eleison, Kirie Eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Ammene. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.